Salve a tutti ragazzi bentornati qui su GDR Addicted con questo nuovo video dedicato a Slam Dunk Mobile Game e oggi ci andiamo a vedere l'ultimo personaggio uscito sul server global ossia Advanced Anagata. Maroon ragazzi in questo quattro occhi guardatelo com'è diventato fiero e forte ha ricoperato la vista perché rispetto all'ultra che ha preso la gomitata e gli hanno rotto gli occhiali lui ha finalmente ritrovato i suoi bei la sua bella montatura con quattro lenti non due quattro perché così si vede meglio ed è pronto per fare sfracieli nelle ranked in che cosa consisterà questo video solita cosa ragazzi analizzeremo le gli attributi di Anagata anche perché non ho mai fatto una player review della sua versione base quindi ne approfitteremo anche per vedere quella e poi guarderemo i talenti e le build migliori che si possono usare su di lui ma prima di questo vi invito come al solito a mettere mi piace e condividere il video e iscrivervi al canale e a supportarci sui nostri social anche Facebook e Instagram e sul canale Viola dove ogni settimana facciamo live a tema Slam Dunk. Detto questo non indugiamo oltre e tuffiamoci in questo Anagata. Allora ecco la pagina degli attributi di Anagata. Partiamo come al solito dei attributi offensivi vediamo che Anagata ha dei bellissimi attributi offensivi perché ha un close di 120 tra parentesi vi ricordo che queste statistiche sono sempre quelle del personaggio al massimo livello quindi livello S50, close di 120, middle di 113, trip pointer di 38, dunk di 122 e layup di 114 quindi ragazzi Anagata è uno scorer, cioè un centro che può fare anche da scorer volendo ha degli ottimi attributi tutti quasi sopra il 100-110 per quanto riguarda la fase offensiva ma il più basso è il trip pointer ma ragazzi lui è un centro, cosa si sta a fare dietro la linea di tre punti? Niente. Tutto questo per dirvi che Anagata rientra in quella categoria che io ho ribattezzato insieme alla nostra community italiana Fast Rebounder ma vediamo anche gli altri attributi in modo da capire meglio il perché rientra tra i Fast Rebounder. Andiamo a vedere gli attributi generali. Lui ha un control di 109 che per un centro è tantissimo ragazzi, 109 una strength, una forza di 119 un jump di 105, molto buono per prendere gli imbalzi un dribble di 63 una rest di 92 che è altissima veramente molto alta per un centro e un run di 74 che purtroppo è un po' il suo punto debole essendo comunque sempre un centro non è così rapido come ad esempio un Oda o un Rango che sono invece dei centri più veloci tuttora esistenti. A livello difensivo invece spicca il rebound con 125 ma anche un buon block con 121 un gem di 97 e uno steal di 50 perché vi dicevo che Anagata rientra tra i Fast Rebounder i Fast Rebounder sono quei centri OPF che riescono efficacemente a recuperare gli imbalzi sfruttando la corsa e i loro attributi di rebound e jump oltre che run infatti Anagata base avrà come vedremo tutti dei talenti che lo aiutano proprio quando sta sprintando per andare a saltare a prendere un rimbalzo non è un Power Rebounder quindi non è come Anagata Ultra cioè la sua versione Ultra senza occhiali che invece ha molta strength e basa tutta la sua abilità nel recupero dei rimbalzi facendo box out quindi spingendo l'avversario per metterlo fuori posizione perché vi dico che è un ottimo Fast Rebounder proprio perché ha degli ottimi valori di jump di rebound e come vedremo vi ho detto prima dei talenti per il recupero dei rimbalzi in corsa mi preme inoltre dirvi che nel server nei server cinesi e nel meta cinese questo Anagata è veramente usatissimo adesso soprattutto nei tornei proprio perché è un rebounder di supporto sta andando tantissimo come formazione il Double Rebounder in Cina cioè uno scorer coadiuvato da due rebounder uno di solito un Power Rebounder molto solido sotto canestro come Akagi Ultra, Wozumi o Anagata Ultra e l'altro un Fast Rebounder di supporto che può essere un Oda un Anagata Advanced che è molto più usato di Oda ora oppure un Anamichi Ultra un Sakuragi Ultra quindi vediamolo bene perché è un personaggio ragazzi che nel meta cinese è usato tantissimo e probabilmente quando uscirà Free anche nel nostro global nel nostro server global sarà usatissimo anche da noi vediamo ora i suoi talentacci allora ragazzi io qui faccio la solita premessa noi adesso guarderemo anche i talenti dalla sua versione base però io l'ordine in cui vi darò la priorità è per la versione Advanced cambia poco in alcuni casi perché più o meno le cose importanti che Anagata deve avere sono quelle come primo ramo io vi invito ad alzare il suo Dash e Rebound e il perché presto dentro innanzitutto nella sua versione base vedete che appunto gli incrementa il Contest Value quando va a rimbalzo di più 7 e qui addirittura vi dice che quando appunto Toro Anagata sta accelerando quindi sta correndo può saltare più in alto per prendere il rimbalzo quindi è più efficace nel recuperare il rimbalzo se sta sprintando quindi se sta correndo e qui vi dice appunto che se sbloccate questo nodo Anagata può prendere anche i rimbalzi di lato o dietro di lui posizionandosi all'ultimo momento in maniera corretta quindi ha qualcosina nella sua versione base per i rimbalzi non è tantissimo ma è qualcosina che vedremo può essere utile per la sua versione Advanced questo nodo semplicemente la sua versione base vi dice che una volta che recupera il rimbalzo può atterrare subito e fare fade away può essere utile se non siete marcati ma non è niente di fenomenale più avete una res aumentata ma perché vi dico che la sua versione Advanced deve necessariamente alzare questa skill per prima il motivo è questo ragazzi Anagata nella sua versione base ha il grosso punto debole di essere molto lento con la versione Advanced in questo ramo sblocca una skill di corsa finalmente che lo aiuta tantissimo sia nell'arrivare a recuperare i rimbalzi più velocemente ma soprattutto a marcare più efficacemente gli avversari che magari si sono leggermente allontanati per effettuare un tiro dalla middle o anche da 3 volendo quindi questo è importantissimo da sbloccare vediamo che qui ha una riduzione del dash rate del più 10% praticamente vi dice che accelera in maniera molto più agile vedendolo più efficace addirittura nell'evadere i blocchi avversari riducendo la possibilità che si è intercettato gli facciano anche il break quindi gli possono fare anche il break più difficilmente anche se sta correndo perché vi ricordo che se correte siete più soggetti all'uncle break qui questo qui è il nodo diciamo più importante a seguito di quello della corsa dice che se è attivato la Nimble Sprint che è quella skill che avevamo sbloccato all'inizio e va per prendere l'imbalzo il suo rebound range aumenta di 1 ragazzi 1 è tantissimo quindi abbiamo visto che la sua versione base ha il contest value aumentato può prendere i rimbalzi a fianco e dietro se sta sprintando salta più in alto in più con questa se state sprintando con la skill saltate in maniera più ampia per recuperare i rimbalzi e già diventa un rimbalzista che può essere degno di rispetto inoltre qui avete un tip in che può essere molto utile peccato che non è a comando come la sua versione ultra ma è dovuto al caso un po' come quello di Fukuda che vi procca una volta ogni tanto e lui schiaccia canestro dopo che avete recuperato il rimbalzo qui avete una possibilità che la skill si triggeri aumentata del 30% e poi qua un dunk ancora si è aumentato dell'8% la cosa però importante ragazzi di questo ramo è appunto lo sprinting la sprinting skill e il rebound range aumentata di 1 secondo ramo che vi consiglio è il suo turnaround shot nella sua versione base questa skill semplicemente è una skill che può fare seguendo un turn in giro vi dice che se Toranagata fa questa skill ha il mid range shot aumentato del 6% una possibilità di fare l'uncle break aumentata del 3% e vi dice che dopo che fa l'uncle break per 2 secondi al mid range shot ha aumentato dell'8% di qua vi aumenta il range su cui poter usare le skill a seguito del turnaround che sono skill per tirare una è questa vedete lui fa il turnaround e poi fa questa specie di floater dice che tra l'altro se fa il turnaround floater c'è una possibilità il 30% che il tiro segue una traiettoria più alta e quindi mandi fuori tempo gli avversari quando lo vogliono stoppare in più ci potete concatenare un fade away che è molto utile per mettere distanza con i marcatori sotto canestro inoltre dice che con questo nodo la frequenza con cui il tiro floater ha quella traiettoria un po' più imprevedibile aumenta un pochettino ma la sua versione advance che cosa ci dà? ci dà innanzitutto un turnaround più ampio ok? più difficile da seguire per i difensori vi dà una received dash rate reduction più 10% quindi meno difficoltà che ve lo intercettino lo stoppino con il corpo ma ragazzi la skill utilissima è questa è un drive agile turnaround che può fare dopo un turnaround per tagliare ulteriormente dentro perché è utilissima perché questa ragazzi la potete concatenare con qualsiasi skill offensiva quindi potete fare floater potete fare fade away ma addirittura la potete concatenare con un altro turnaround e un altro drive agile turnaround quindi lo potete fare due volte ok? ma andando un po' in confusione gli avversari e tra l'altro trasformando Nagata quasi in un dancer visto che ha comunque dei valori di control molto buoni vi dice infatti che se a Nagata fa due drive di fila c'è un'incrementata possibilità che faccia anche il break del 5% quindi secondo ramo ragazzi assolutamente questo turnaround shot come terzo ramo invece io vi consiglio il suo step break è un altro ramo totalmente dedicato alla fase offensiva nella sua versione base vi da un ankle break del 3% di qua vi da un interception chance quando fate il drive diminuito al 10% quindi è più difficile che vi intercettino con il corpo qua c'è una skill in cui lo step lo fate più lungo e più largo in modo che è più difficile che vi intercettino e qui c'è già la prima skill offensiva running shot qui fate lo step laterale e poi vi avvicinate al canestro per fare questo floating shot vi dice inoltre che ovviamente ha close hit shot dell'8% qui e poi vi dice che se fate ankle break all'avversario la sua accuratezza incrementa per 2 secondi dell'8% quindi fare ankle break per anagata può essere fondamentale proprio per assicurarsi il tiro che si ha dentro oppure potete concatenare quello step shot con un fade away e questa ragazzi è una combo utilissima per anagata perché si crea veramente tanto tanto spazio se siete marcati da un power rebounder lento sotto canestro come uozumi non vi arriva mai a stoppare con questa skill quindi molto molto interessante passando alla sua versione advanced cosa abbiamo abbiamo un pump fake con il false step break utile ma fino a un certo punto perché come vedete il pump è necessariamente da fare con due tasti il tasto del tiro e poi il tasto del false step break e se l'avversario è bravo e vi marca decentemente non casca molto facilmente su questa finta quindi utile sì ma fino a un certo punto e vi aumenta l'uncle break del 5% ma questa è la vera skill utile di questo ramo finalmente anagata a un doppio punto di stoppata potete fare lo step break running shot e poi fare il double pump layup questo costringe gli avversari a marcarvi in due a marcarvi in due perché perché il primo deve stoppare il running shot sul primo punto e il secondo su il double pump layup altrimenti è sempre canestro qui vi dice che vi aumenta il layup accurasi del 5% e addirittura dice che se confondete con successo l'avversario che salta sul primo punto il double pump layup ha la cura samentata del 5% cominciate già a capire quante modalità offensive ha questa anagata abbiamo visto che ha anche un doppio drive molto utile per confondere gli avversari potrebbe diventare un problema stargli dietro quarto ramo il suo turnaround dunk questo è un ramo di skill in cui lui fa un catch and dunk o un catch and shoot vedremo semplicemente alza la mano come gli è passata la palla inizia l'animazione per andare a canestro questo ovviamente ha il dunk hit dell'8% questo nodo qui invece gli inserisce la possibilità che faccia anche il break sul difensore quando lui riceve la palla e fa il turn perché ogni volta che prende palla fa il turn e poi schiaccia o fa qualcos'altro e addirittura vi dice che aumenta la possibilità che faccia anche il break con il turn del 3% e vi dice che se Toro Nagata fa anche il break dopo il turn ha un dunk hit aumentato dell'8% questa vediamo la skill è il secondo tempo della schiacciata il primo semplicemente quando fa il primo giro schiaccia e questo invece vi da uno secondo tempo per mettere fuori tempo il marcatore allora qui se c'è solo il centrale sotto questa skill è utile se già ci sono due vi stoppano sicuramente quindi molto difficile che la usiate frequentemente questa skill qui invece a me piace tantissimo potrebbe essere utile perché molti si aspettano la schiacciata anche in doppio tempo mentre invece voi facendo questa vi allontanate dal canestro e magari tirate leggermente interferiti o addirittura open una valda variante ha la doppia schiacciata qui vi dice che aumenta l'accurasi del 5% ma andiamo alla sua versione advanced la sua versione advanced è utile perché ha questa ragazzi voi direte cavolo ma è uguale al single and dunk e invece no perché il tempo di esecuzione è diverso questo è il terzo tempo di schiacciata il primo è quello base il secondo è quello col turn che abbiamo visto questo è un terzo tempo che manda completamente fuori tempo scusate la ripetizione i marcatori ed è molto utile appunto perché vi consente di andare a canestro senza che vi marchino in due vi stoppino appunto qui vi dice che se Anagata confonde con successo i suoi avversari con il fake dunk c'ha una cura sia aumentata dell'8% poi ci sono altre due skill interessanti non fondamentali ma certamente potrebbero tornare utili che sono il fake diciamo catch and shoot ma in realtà lui ripassa la palla e lo può fare sia così che alle spalle se ha un giocatore dietro di lui a cui può passare la palla qui semplicemente sono nodi che aumentano la passing speed e riducono diciamo la possibilità che nel range del passaggio gli intercettino infatti passing safe distance più due potete effettuare il passaggio in maniera più sicura anche a una distanza aumentata quinto ramo il suo fade away shot nella sua versione base questo ramo è molto importante perché vi consente di avere una resta aumentata nel fade away che è una delle skill principali con cui lo segna di fare di avere un mid range shot hit più 5% con il fade away e poi vi dice che può usare con questa skill il fade away in maniera più veloce e facile il tiro in modo che sia più difficile per i difensori riuscirlo a seguire quindi esegue il tiro in maniera un po' più rapida qui ovviamente al range a cui può farlo molto utile e qui abbiamo la skill dell'advance che è molto bella ragazzi cioè voi attivate la skill di corsa in nimble sprint e poi premendo il fade away step back shot riuscite a fare questo tiro che si mette una distanza siderale dai marcatori perché già voi siete di corsa lui fa lo step all'indietro e poi va in fade away molto molto carino molto utile qui vi aumenta vi da un ulteriore meccanismo di ankle break quando riceve la palla che fa quel saltino all'indietro vi dice che vi da un ulteriore 5% di ankle break di questa skill e se riuscite a fare un extra fade away open vi aumenta l'open main range ancora se ulteriormente del 5% infine l'ultimo ramo la sua ulti anche questo si chiama fade away shot l'hanno sbagliato a tradurlo quasi sicuramente o questo l'altro ramo la ulti ragazzi di anagata base è una delle più difficili da essere bloccata perché ha due diversi punti che vengono proccati casualmente e non è semplicissimo riuscirlo a fare anche perché devi avere una posizione molto precisa un tempismo estremamente preciso qui vi aumenta il range a cui può farlo e vi aumenta anche la possibilità che faccia anche il break se riesce a segnare con questo tiro ha una skill energy aumentata ed ecco qui il secondo punto trattiene un po' di più la palla e poi va a tirare e qui vi dice appunto che l'anagata utilizzerà i due tipi di ulti in maniera diciamo random in modo che sia più difficile stare lì dietro e qui vi aggiunge una meccanica di ankle break in cui lui fa un passettino indietro uno step back indietro prima di fare la ulti infatti aumenta l'uncle breaking rate del 40% quasi la metà tantissimo perché ve l'ho messo per ultimo ragazzi ve l'ho messo per ultimo perché in realtà la sua versione advanced non è che abbia un ramo molto interessante qui ha un ramo degli intercetti abbiamo visto però che anagata ha un valore di still di 50 forse è compensato un po' dal control ma ragazzi queste non sono skill essenziali per lui gli aumenta l'altezza dell'intercetto qui addirittura vedete con la palla alta può fare lo scattino si può essere utile ma la anagata difficilmente si muoverà tanto dal canestro ok quindi secondo me lascia il tempo che trova gli aumenta interception rate il 5% addirittura se state sprintando gli aumenta di un ulteriore 5% e qui vi riduce la possibilità che la palla vi venga rubata dopo che effettuate un intercetto dell'8% non è niente di che per cui ve l'ho messa per ultima proprio per questo motivo ma andiamo ora ragazzi a vedere come buildarlo questo anagata advanced allora ragazzi anagata advanced lo si builda come si buildano tutti i fast rebounder ossia gli si mette paint and zone advanced che è questa abilità gialla qua che vi da più 3-3 di middle più 1 di rebound e più 0-7 di open mid shot questo perché ragazzi non mi sembra stupido ricordarlo ma anagata deve ovviamente potenziare il suo middle perché usa molto il fade away il suo rebound perché è un fast rebounder e il suo allore di jump perché deve saltare molto in alto quindi per le abilità verdi invece gli si mette super rebounder che vi da un rebound di 3-3 un jump di più 1 e un boxing out di più 1 tipica appunto dei fast rebounder per le abilità blu invece gli si mette super bounce che vi da un jump 3-3 e un middle 1 ora qui in alternativa vi do delle varianti a seconda di come volete giocarlo voi anagata lo volete classico fast rebounder allora ci mettete super bounce lo volete un po' più offensivo gli potreste anche mettere steady mid perché vi aumenta il control che gli serve per fare ankle break quindi far cadere gli avversari e il middle di più 1 o addirittura lo volete fare una via di mezzo potete usare nimble step perché vi da un control aumentato per fare appunto ankle break e un jump di più 1 per aiutarvi nei rimbalzi questo dipende molto ragazzi da voi come lo volete giocare se consiglio spassionato se lo volete giocare diciamo il più classico possibile super bounce altrimenti a seconda di variante offensiva steady mid variante metà e metà nimble step per i suoi tratti invece andiamo a vedere un pochettino il tratto che sicuramente bisogna dargli è quello che è uscito da poco per lui ossia determination determination a livello 5 cosa dice che vi incrementa la rebound l'attributo di rebound di 3 e tutta l'accuratezza della fase offensiva dei lay up slam dunk mid range cross shot del 3% è perfetto per lui proprio perché è un fast rebounder quindi deve avere il rebound alto ma è anche uno score quindi può beneficiare di questo boost a livello offensivo in tutte le sue skill poi che abilità gli possiamo che tratto ulteriore gli possiamo dare sicuramente ragazzi gli si dà dash and rebound gli si dà dash and rebound che vi dice la seguente cosa quando sta sprintando la sua rebound il suo tratto di rebound incrementa di 5 se si sta usando una skill di sprinting come il nimble sprint di appunto advanced anagata il rebound aumenta di un ulteriore 2 quindi in totale aumenta di 7 perfetto per lui come è perfetto ad esempio per anamici base o per oda che hanno anche loro delle skill di corsa come ultima ragazzi dipende come voi lo volete costruire lo volete più offensivo unstoppable potrebbe essere molto valido perché vi aumenta l'uncle break rate del 3% e tutte le la cura si è offensiva di tutte diciamo le vostre mosse quindi 3 punti mid range close le yap e dunk del 5% per 3 secondi dopo che avete fatto un call break di solito anagata fa un call break che fa lo step break e poi tira quindi è perfetto per lui unstoppable oppure se volete farlo diciamo forse un po' più bilanciato su fase offensiva e difensiva in alternativa gli potete mettere anche un swingman perché vi dà un aiutino in fase difensiva 0.25 del blocking range e ovviamente il mid range accura si del 3.5 ora a me non piace molto in alternativa ancora se giocate con un altro centro o un pf potrebbe essere veramente valido giocarci double center che dice appunto che se un vostro compagno ha un centro o un power forward doppio f vi incrementa la rebound di più 4 e l'offensive accura si con l'accuratezza offensiva del 2% dell'ayup slam dunk mid range e close quindi questo per lui se state giocando con un anamichi ultra con un akagi ultra o con un wazumi è molto valido giocarlo con double center perché lo aiutate tanto sia in fase difensiva nei rimbalzi che offensiva con un boost che è costante ok bene ragazzi la play review dei quattrochione rinato è finalmente finita qui io come al solito vi ringrazio vi invito a mettere mi piace condividere il video iscrivervi al canale ancora una volta ci aspettiamo su il canale viola con le nostre live di slam dunk mobile game ci vediamo a un prossimo video ciao da spike a un prossimo video Grazie a tutti.